Metropolitano, una linea di indirizzo sul piano marketing turistico per la città, quali saranno le novità di questo nuovo piano? È un lavoro che si è svolto in questi anni insieme a tutti gli operatori turistici, insieme agli enti camerali, che va a dare una regolamentazione, una programmazione chiara rispetto a quelli che sono stati, sono e saranno gli investimenti sul piano del marketing territoriale e della promozione del nostro territorio da parte della città metropolitana. All'interno di questo piano di marketing infatti rientra la presenza degli appuntamenti fieristici nazionali e internazionali, rientra la storicizzazione di eventi che hanno un rilievo culturale e un rilievo anche sociale, non soltanto sul nostro territorio, ma che riqualificano, ripeto, a livello internazionale l'immagine della nostra città metropolitana, il sostegno alle associazioni culturali, a chi insomma fa cultura e promozione del territorio e naturalmente un indirizzo politico rispetto a un aumento di quelle che sono le risorse anche da inserire in questo settore. Naturalmente dentro il piano di marketing ci sono tutte quelle azioni strategiche che vanno a incentivare, a promuovere la città metropolitana attraverso video, attraverso attività multimediali, attraverso guide turistiche, attraverso il sostegno agli operatori del settore turistico e naturalmente tutto questo viene regolamentato in modo tale da dare un indirizzo chiaro agli uffici rispetto agli obiettivi che la città metropolitana si vuole prefiggere di raggiungere. Allo stesso tempo però è stata approvata una mozione molto molto importante sotto il profilo politico. Ci tengo a precisare che è stata una mozione proposta dal consigliere Minicucci ma condivisa e integrata da parte di tutti i consiglieri metropolitani che riguarda la richiesta rivolta sia ai candidati a Presidente della Regione Calabria ma anche ai candidati alla carica di consigliere metropolitano, scusate, alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione sud, nella circoscrizione dei 97 comuni della città metropolitana per fargli assumere una responsabilità, fargli prendere un impegno chiaro rispetto alla necessità che entro i primi sei mesi dall'insediamento del prossimo consiglio regionale vengano assegnate finalmente le funzioni necessarie alla città metropolitana. Funzioni necessarie affinché la città metropolitana possa realizzare quelli che sono gli obiettivi per i quali è nata e quindi le funzioni necessarie sul piano dell'ambiente, sul piano del lavoro, sul piano del turismo, sul piano della mobilità, sul piano della formazione. Tutte funzioni che non sono state assegnate dallo Stato quando è stata approvata la legge del Rio ma che possono e devono essere assegnate dalle regioni. Era stata, come tutti ricorderanno, presentata una proposta di legge da parte della città metropolitana alla fine del 2015. Quella proposta di legge è stata rimasta letta e la morta, non è mai approdata in consiglio regionale e allora non possiamo più aspettare, non possiamo ancora attendere chi non arriva mai. Questo territorio non può essere mortificato rispetto a quelle che sono le proprie legittime aspettative. Ciò che i cittadini metropolitani si aspettano che faccia l'ente metropolitano ma che sotto tanti punti di vista non può fare perché non gli sono state assegnate le funzioni. Allora chiediamo a chi oggi chiede la fiducia ai calabresi, ai cittadini metropolitani di assumere un impegno chiaro e preciso affinché queste funzioni vengano assegnate entro i primi sei mesi del loro insediamento. Qualcosa di più sul piano di marketing? Qual è la consistenza di queste operazioni? All'atto pratico cosa vedremo nella città? Vedremo la presenza della città metropolitana, tutti gli appuntamenti fieristici che riguardano la filiera dell'agroalimentare, che riguardano l'aspetto multimediale, che riguardano il turismo, che riguardano ad esempio la promozione delle eccellenze calabrese a livello di territorio, a livello di patrimonio culturale, a livello appunto di enogastronomia. Prevediamo anche la presenza di finanziamento continuo nei prossimi anni di tutti quelli che sono stati sono e saranno gli eventi storicizzati che hanno una ricaduta culturale, sociale ed economica sul nostro territorio. Prevediamo il sostegno a chi con tanti sforzi, con tanta difficoltà promuove l'immagine del territorio e quindi fa arte, cultura, turismo, spettacolo attraverso il patrocinio e il sostegno anche economico a queste attività. Prevediamo la divulgazione di materiale multimediale o di guide turistiche che possano fare conoscere nel miglior modo possibile l'eccellenza del nostro territorio. La consistenza in termini economici di questi investimenti la si conosce? È una delibera di indirizzo politico, quindi all'interno del Consiglio naturalmente non sono stati previsti, anche perché non siamo in fase di bilancio e quindi non riguarda lo stanziamento economico, riguarda l'approvazione di quello che è il piano che noi vogliamo realizzare nei prossimi anni. Ovviamente rispetto a questo impegno e all'approvazione di questo regolamento poi dovranno essere stanziate al momento in cui approveremo il prossimo bilancio le risorse necessarie.